Il comune di Firenze, che noi useremo come esempio di tutti i comuni e di tutta la realtà comunale, è durato 400 anni, dal XII al XVI secolo. La prima data che incontriamo è quella in cui si riscontra per la prima volta la presenza dei consoli. Il comune all'inizio era retto da consoli. Il nome di questa carica è preso direttamente dall'esperienza dell'antiposizione Roma e si capisce perché dal momento che la democrazia dell'antica Roma era l'unico esempio possibile di governo democratico e di governo popolare che ci potesse essere nel XII secolo, un momento in cui l'Europa veniva da secoli e secoli di feudalesimo. I consoli erano due, poi aumenteranno di numero e duravano in carica un anno e con l'andare del tempo addirittura a pochi mesi, questo per far sì che fossero continuamente sotto il controllo del popolo fiorentino, di chi li eleggeva e che non avessero modo di accumulare in nessun modo potere. Il comune quindi nasce in sostanza con l'intenzione di far autogovernare la comunità cittadina di Firenze e lo stesso si può dire praticamente negli stessi anni per tutte le città del centro nord Italia. I comuni del centro nord Italia nel corso dello stesso XII secolo si scontreranno con l'imperatore Federico Barbarossa, con l'insacro romano impero, perché tutti questi comuni ricadevano pur sempre nel territorio del sacro romano impero e questo da secoli e quindi erano assoggettati come tutto quel territorio al feudalesimo, ai loro signori feudali o a chiunque fosse per competenza il signore di quel particolare territorio, questo vale anche per Firenze. I comuni chiedevano all'impero le cosiddette regalie. I comuni non volevano assolutamente ribellarsi contro l'imperatore, l'idea di ribellarsi all'imperatore nel Medioevo è considerata blasfema, nessuno la porta avanti, non esiste come invece esiste nell'era moderna dopo la rivoluzione francese, l'idea è che le rivoluzioni siano una cosa bella, le rivoluzioni nel Medioevo sono sempre un male e infatti tutti i contendenti si scambiano tra di loro l'accusa di voler cambiare le cose, quindi i comuni non volevano cambiare le cose o ribellarsi all'impero, volevano soltanto più autonomia, ma questa autonomia di fatto era un'autonomia molto pesante che comprendeva anche le cosiddette regalie che sono le prerogative del sovrano, a cominciare da quella di battere moneta e di arruolare un esercito per fare i propri interessi. Lo scontro pluridecennale tra i comuni e la lega lombarda che rappresentava i comuni, tra i comuni e l'imperatore, tra la lega lombarda e l'imperatore, deciso dalla battaglia di Legnano, si concluderà nell'anno 1183 con la pace di Costanza che in sostanza, anche se non del tutto formalmente, concedeva ai comuni i diritti sovrani, cioè le regalie, seppur nell'ambito del riconoscimento che comunque i comuni dovevano fare, riconoscimento della superiorità teorica ideale dell'impero, quindi i comuni non si staccarono mai ufficialmente dall'impero, ma rimasero sempre formalmente parte dell'impero pur diventando di fatto da quel momento in poi città indipendenti. I comuni erano abitati da due tipi di, da due classi sociali essenzialmente. Una è quella che prende il nome dai comuni stessi, che si chiamavano anche borghi, ed è la classe borghese ed è fatta di artigiani, di contadini inurbati, di gente che viveva del proprio lavoro, quindi anche di mercanti, di produttori di lana, tutto ciò che si chiama borghesia, cioè una classe sociale che viveva del proprio lavoro, indipendentemente da quanto fosse ricca, si poteva essere semplici piccoli artigiani, come si poteva essere anche, man mano che saliva la fortuna, diventare borghesi ricchi, accumulare molto denaro. Comunque, nell'insieme sono borghesi, ma accanto ai borghesi c'erano anche nelle città dei signori feudali che si erano trasferiti in città, si erano inurbati, perché a tratti, come tutti nel XII secolo, dalla rinascita della civiltà che si stava verificando, dall'aumento anche del benessere, e questi signori feudali nelle città avevano ricostruito i propri castelli, praticamente, quindi le città medievali nel XII secolo sono irte di torri, sono piene di castelli di fatto, sono città fatte di tanti castelli, tutti attaccati, castelli che sono veri castelli, con torri, con strumenti difensivi e tra i quali si svolgevano continuamente delle risse, delle faide e delle piccole guerre, anzi grandi guerre sanguinose, come i signori feudali erano da sempre abituati a fare già quando stavano in campagna. Quindi, già dal XII secolo, il governo comunale retto dai consoli comincia a evolversi, comincia a evolversi, ripeto, a causa della dinamica cittadina, perché la città era popolata da abitanti molto diversi tra loro, c'erano borghesi poveri, borghesi ricchi e nobilità cittadina. Il primo cambiamento lo si avverte a Firenze nell'anno 1193, quando viene creata la nuova carica del Podestà. Il Podestà era un personaggio neutrale nelle contese all'interno della città, tanto che quasi da subito addirittura lo venne chiamato da fuori, era cioè forestiero, durava un anno e aveva il compito di guidare gli affari della città mantenendosi il più possibile in una posizione neutrale. Questo era l'unico scopo della sua esistenza, lui doveva essere semplicemente neutrale. Con l'andare del tempo questa dinamica cittadina si sposterà a vantaggio della borghesia e contro i cavalieri, perché la borghesia andava arricchendosi sempre di più con i suoi traffici. Tant'è vero che nell'anno 1215 ci fu una nuova riforma della città di Firenze con la creazione degli cosiddetti anziani, un organo collegiale, gli anziani, che rappresentava la borghesia perché era eletto tra coloro che lavoravano, tra i borghesi, e in qualche modo costituiva una nuova evoluzione della città che dava più potere alla borghesia e accanto a loro c'era il capitano del popolo. Capitano del popolo che aveva invece la funzione, sempre in questa stessa riforma nel 1215, di guidare la città dal punto di vista militare ogni qual volta ci fosse bisogno di usare le armi, il che succedeva spesso perché la città era continuamente in conflitto sia con le città vicine sia preda di conflitti interni e questo lo si vede anche dalle mura di cui Firenze si dotò in questo periodo. Si costruì delle mura quattro volte via via sempre più grandi man mano che la città cresceva. Il XIII secolo è anche il periodo della lotta quindi tra borghesia da una parte e cavalierato urbano dall'altro che è anche una lotta politica cosiddetta tra i guelfi e i ghibellini. La borghesia tendeva a essere dalla parte guelfa, cioè dalla parte del papa, il cavalierato tendeva ad essere invece dalla parte ghibellina, cioè dalla parte dell'imperatore. Questo per motivi comprensibili, la borghesia era la parte della città che più di tutti aveva interesse a staccarsi dal mondo feudale perché erano coloro che volevano arricchirsi quei traffici, volevano avere sempre più libertà d'azione, ad esempio volevano la libertà di battere moneta per proprio conto. Viceversa i cavalieri erano quelli che erano più legati al sistema feudale anche perché loro stessi erano di origine feudale e avevano quasi sempre parenti ancora in campagna che erano parte integrante del sistema feudale. Quindi lo sconto tra guelfi e i ghibellini riguarda la Firenze del XIII secolo ed era uno scontro violento dove le due fazioni continuamente si scacciavano l'una con l'altra. Nel frattempo emerge anche il ruolo delle corporazioni, cioè la borghesia si organizza in corporazioni, ogni mestiere ha la sua corporazione e le corporazioni oltre ad organizzare il lavoro dei lavoratori sia ricchi che poveri ma specialmente i più ricchi perché ci sono corporazioni ricche e povere e quelle più importanti sono le più ricche, dicevo queste corporazioni svolgono anche funzioni pubbliche, tanto per dirne una sono quelli che svolgono il servizio di polizia e fanno un servizio di guardiania notturna delle vie della città di notte. Insomma le corporazioni gestiscono anche la Repubblica, gestiscono il potere e questo viene sancito nel 1262 con la fondazione del priorato delle arti, le arti sono le corporazioni, quindi il priorato delle arti è quell'organo che racchiude tutti i capi delle corporazioni che da quel momento in poi saranno loro a gestire la città di Firenze, il comune di Firenze, che prende il nome di Repubblica di Firenze. E va detto che questo priorato è l'organo che ha l'idea, progetta la costruzione del palazzo dei priori che è quello che oggi si chiama Palazzo Vecchio ed è quello che possiamo vedere in questo tour virtuale. Passano altri trent'anni, 1293, con gli ordinamenti di Genova della Bella la città che è già in mano alle corporazioni ha un'ulteriore evoluzione politica con la creazione della carica di Gonfaloniere. Il Gonfaloniere è semplicemente il presidente del collegio dei priori del priorato ed è quello che di fatto diventa il leader politico della città perché tanto per cominciare è colui che è responsabile della condotta militare della città. La carica di Gonfaloniere rappresenta l'esito finale dell'evoluzione politica di Firenze. Nel periodo in cui le corporazioni prendono il potere e il Gonfaloniere prende il potere, i Guelfi anche prendono il potere perché, come abbiamo già detto, la parte Guelfa era quella legata all'elemento borghese della città, mentre la parte Ghibellina era quella legata all'elemento feudale, cavalleresco. Quindi le famiglie borghesi prendono il potere, la parte Ghibellina viene scacciata dalla città, viene esiliata e i Guelfi comandano da soli ma non tardano peraltro a spaccarsi a loro volta in fazioni interne, a cominciare da quelle cereberne dei Bianchi e dei Neri, rese famose da Dante e che portano alla continuazione delle solite dinamiche di violenza e di esili, tant'è vero che Dante stesso viene esiliato dal capo della fazione avversa, cioè Corso Donati, cosa che Dante stesso racconta all'inferno, nel suo inferno, prendendosi anche le dovute vendette. Da questo momento in poi la Repubblica Fiorentina è consolidata, non ci saranno altre variazioni istituzionali, cioè il gonfaloniere continuerà ancora per altri secoli a essere il capo della città. L'evoluzione in realtà continua, anche se questo è già fuori da ciò che ci interessa a noi perché noi stiamo parlando dell'età comunale, accenderò brevemente al fatto che nel 400 la carica di gonfaloniere finirà per essere esercitata sempre da una famiglia di banchieri, quella dei medici, o da elementi di altre famiglie legati da vincoli personali, di amicizie o di interesse con la famiglia medici, il che porterà di fatto nel 400 Firenze a diventare una città che formalmente è ancora una repubblica, ma di fatto è retta dalla famiglia medici in modo quasi dinastico perché la famiglia medici, che è una famiglia di banchieri, si trasmette il potere di padre in figlio. Questo finché nel 1530 non viene gettata la maschera e la famiglia medici, dopo una serie di rivolgimenti esterni che qui non sta a noi raccontare, diventeranno granduchi di Firenze, mettendo fine anche formalmente alla repubblica e quindi mettendo fine a quattro secoli di storia repubblicana fiorentina.